Ciao a tutti gli amici di Accordo.it, sono Marco Piemontese, brand manager per il marchio Meki, Meki è uno dei marchi distribuiti da Pro e l'SPA ed è uno dei brand forse più famosi nel campo della produzione dei prodotti per Pro Audio. Oggi vi vorrei parlare di una nuova linea di mixer analogici con interfaccia digitale Onyx Eye. La linea è composta fondamentalmente da 4 modelli con un numero di canali variabili dalle esigenze più piccole come l'820, 12 canali, 16 canali e 16 canali professionali con 6 barre ausiliari, 4 sottogrutti. La caratteristica di questi mixer, oltre a chiaramente essere degli ottimi mixer analogici come Meki è ormai noto, fa da anni, grazie alla qualità dei preamplificatori, dei filtri di equalizzazione Pertins, sta nel fatto che integra una interfaccia Firewire a 16 canali con un routing molto particolare, cioè dà la possibilità di poter non solo gestire lo streaming in tempo reale di 16 tracce, di 16 canali, come chiaramente un'interfaccia 16 canali può fare, ma dà la possibilità di poter decidere cosa inviare attraverso i vari canali della interfaccia audio, decidendo per esempio di poter inviare il segnale dalle 6 mandate AUX direttamente via Firewire, utilizzare la propria console, il proprio software di editing e di registrazione e di restituire l'audio sempre in Firewire nuovamente sul mixer per il riascolto. Ad esempio io in questo momento sto ascoltando con un normalissimo lettore multimediale un segnale audio, questo segnale attraverso il mio programma di registrazione e di editing, in questo caso stiamo parlando del Meki Traction 3, rientra attraverso i miei due ausiliari AUX 1 e 2 sempre via Firewire e nuovamente lo restituisco attraverso la mia coppia 15 e 16, quindi i miei ultimi due canali. È una scelta che posso tranquillamente gestire a seconda delle mie necessità, però questo mi dà la possibilità ad esempio di utilizzare i plugin del mio programma di registrazione o di editing. In questo caso per esempio stiamo utilizzando un Channel Strip che è una sorta di cocktail tra compressore, noise gate e equalizzatore sul canale, oppure di aggiungere a proprio piacimento un reverb, un delay come stiamo facendo in questo momento. Quindi sostanzialmente ecco, la serie Onyx Eye con questa efficiente funzione di gestione del routing Firewire dà la possibilità di liberare la propria creatività aprendo veramente il mondo della registrazione sul computer con la qualità e il calore del suono analogico come mechi da sempre fa. Grazie a tutti.